Ma qui saranno sempre delle faticacce, l'importante è che si sia pronti a sopportare la fatica per poi dopo andare a raccogliere quanto hai seminato durante la settimana. Mi rompe le scatole, visto che alla vigilia della gara avevo detto che mi rompeva le scatole aver subito sempre gol finora, oggi mi rompe le scatole aver concesso una palla gol nitida su una palla lunga con una superiorità numerica e questo è il più grosso appunto che posso fare ai ragazzi. Per il resto hanno avuto pazienza, potevamo fare un giropallo un pochettino più veloce però loro hanno sacrificato tantissimo i loro attaccanti, addirittura venivano a lavorare sempre a schermo sui nostri centrocampisti centrali. Così diventa complicato nella prima frazione, proprio nella prima parte del primo tempo con gli esterni alti siamo rimasti sempre piatti sulla loro linea dei cinque non siamo mai venuti a lavorare in zone intermedie per poter tirare fuori anche il terzo difensore centrale dove poi dopo magari poter andare a attaccare la profondità e questo un pochettino ci ha penalizzato. Poi dopo, se andiamo a vedere, io le valutazioni spesso le faccio fra occasioni da gol concesse e occasioni da gol create. Sulla legittimità della vittoria ragazzi credo ci sia poco da dire poi su come è venuta, sugli episodi, sulla qualità di quello che si poteva fare magari lì allora vi divertirete e potrà essere anche motivo di discussione però sulla legittimità della vittoria non credo che ci sia niente da dire. Sì, volevo uno che avesse la sua qualità nel servire compagni che andasse un pochettino a oscurare o a pressare o a rubare qualche pallone a cavalli perché in quel momento i due attaccanti non riuscivano più a lavorare sul vertice basso. Ho preferito questa soluzione mettendo un giocatore che ha grande qualità che ha una grande qualità individualmente ma che la mette sempre a disposizione dei compagni tant'è vero che tutte le occasioni create da lì in poi c'è sempre stato lo zampino suo quindi è stato veramente determinante al pari anche come era stato nella gara nel derby contro il Siena al pari di quella gara è stato fondamentale per la vittoria di oggi al di là del gol. Vi siete molto arrabbiati sulla punizione a due che è stata con Censelac? Ci siamo arrabbiati perché non è che impazzisce Massimiliano e va a prendere una palla con le mani l'ha presa perché c'è stato un tocco evidente e sonoro da parte di Bazzoffia ci siamo arrabbiati perché Bazzoffia non è stato onesto e non l'ha detto all'arbitro l'arbitro gliel'ha chiesto nel momento in cui gliel'ha chiesto e Bazzoffia ha detto di no ha concesso la punizione così è stato e non è stato ripagato Una classifica comunque che in questo momento rispecchia lo so che la guardiamo alla fine però rispecchia diciamo quanto ha fatto la Ghezzo Fink No, no, no abbiamo lasciato per strada punti quindi non lo rispecchia poi non so che classifica sarà ti ripeto la guarderemo al 30 dicembre ma non rispecchia poteva starci il pari col Siena per quello che era successo durante tutta la partita ma ci dovevano stare la vittoria col Combo ci doveva stare la vittoria con la Lucchese quindi siamo in credito ma non si fa niente andiamo avanti pensiamo a migliorare perché abbiamo ancora ancora tanti aspetti da da dover limare per continuare a crescere per dare continuità a questo ottimo inizio di stagione Sulla concentrazione avevate lavorato in particolare su questo visto che a volte ha indicato la testa anche sul lancio ad esempio di Luciani forse un po' troppa frenesia Sì perché Alessio ultimamente ci ha abituato sempre a grandi prestazioni e quando alza il proprio margine di errore ti lascia quasi perplesso perché le ultime gare di Alessio sono state veramente di grande qualità gli chiedevo di rimanere lucido di rimanere concentrato di non forzare le giocate perché è un ragazzo è un ragazzo d'oro è un ragazzo sempre il primo a lavorare durante la settimana ha grande partecipazione e può capitare anche la giornata meno positiva in quel frangente lì non si deve far condizionare dall'errore stai lucido stai calmo stai sereno gioca perché sai giocare a calcio scusa 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 stai scusa